Ariano Irpino verso le amministrative del 20 e 21. Diamo la parola ai candidati con noi oggi Marcello Luparella, uno degli aspiranti primi cittadini di Ariano Irpino. Luparella guida il Patto Civico, una coalizione formata da cinque liste, siamo Ariano insieme per Ariano, Ariano convincente, Ariano che produce e Ariano di tutti. Sono Luparella, sono tanti i big che stanno arrivando ad Ariano per la campagna elettorale e torna il tema della filiera istituzionale. Nel caso in cui durante un'eventuale consigliatura la sua compagine potrebbe risentirne per non avere alle spalle un partito politico? Assolutamente no, intanto perché il nostro patto nasce in questo momento per le elezioni amministrative ma i soggetti che ne fanno parte, cioè noi, non nasciamo certo adesso. Abbiamo i nostri collegamenti e anche le nostre appartenenze. Abbiamo soltanto sospeso per un momento la nostra appartenenza ai partiti. Ma oltre a questo io ho sempre detto e lo ripeto che il concetto di filiera istituzionale mi sembra un concetto pericoloso, anche pericoloso. Non voglio usare altri termini perché implica la convinzione che un mio progetto come amministratore pubblico, come amministratore comunale, come sindaco, possa andare avanti solo se ho santi in paradiso, solo se ho i miei collegamenti. Questo mi sembra un po' antistorico visto che siamo nel 2020 e credo che i progetti invece vadano avanti sulle loro gambe, sulla loro qualità e non sulle conoscenze. Per chi voterete alla Regione Campania? Noi non diamo indicazioni di voto. Ognuno voterà come crede, proprio per questo motivo, perché non abbiamo partiti di riferimento. In patto civico ci sono ex amministratori, ma anche ex candidati che nel 2019 sostenevano il candidato sindaco Domenico Gambacorta. Come si è arrivati a questa contrapposizione? La frattura è evidente? Perché questi consiglieri, assessori, questi militanti e anche altri cittadini avrebbero voluto partecipare alla vita politica, infatti lo stanno facendo. Da parte dei partiti tradizionali invece c'è stata una chiusura totale, c'è stata una rivendicazione di ogni ruolo nel ristrettissimo ambito delle segreterie di partito, che sappiamo adesso non sono quelle di una volta, sono legate a pochi soggetti, a poco individuo, c'è stata, possiamo usare il termine perché è la verità, un'esclusione di una buona fetta di militanti che invece avevano intenzione di partecipare e che hanno trovato il loro spazio nel patto civico, che intanto si era già avviato e stava già in una fase di studio e di elaborazione. Com'è l'immagine attuale di Ariano all'esterno? Lei che è anche avvocato sicuramente avrà questo feedback. Se fosse sindaco, su quale aspetto vorrebbe intervenire immediatamente? L'aspetto più importante che va avviato immediatamente a soluzione è quello, come vedi Ariano mi chiedevi tu, lo vedo isolato, lo vedo isolato non dal punto di vista culturale, campanilistico, come talvolta si dice, lo vedo proprio logisticamente isolato. Ariano ha bisogno di aprirsi ai comuni vicini e aprirsi al resto d'Italia, avremo la struttura della stazione Irpinia che ci consentirà questo, tra non molto, attraverso soprattutto lo sviluppo delle infrastrutture e dei collegamenti viari. Questo ovviamente comporterà non solo il riacquisto della leadership di Ariano rispetto ai comuni vicini, ma un'apertura più generale è il superamento di questo isolamento che spesso si percepisce. Lei ha anticipato uno degli argomenti, le grandi infrastrutture, quindi la stazione Irpinia e l'alta capacità. Patto civico che posizione ha? Sicuramente bisognerà anche ridisegnare il tessuto urbanistico del Tricolle. Sì, il patto civico, ma credo un po' tutti, individuano la stazione Irpinia come la grande occasione per il futuro. È un'infrastruttura importantissima, inutile che stiamo qui a riparlarne, che sorgerà in territorio di Ariano, ma a confine con Grotta Minarda. Occorre subito ridisegnare la rete infrastrutturale, occorre impegnarsi per la realizzazione della piattaforma logistica, sempre ovviamente nelle adiacenze della stazione Irpinia, occorre intanto nell'immediato anche adeguare i piani urbanistici a queste infrastrutture che vanno ad essere realizzate. La cosa più importante sono, lo ripeto ancora, le strutture di collegamento. Dobbiamo evitare che la stazione Irpinia diventi una cattedrale nel deserto, come purtroppo ci è capitato di vedere che è successo in altre occasioni, in altre zone, per opere di questo tipo. Luparella, durante questa campagna elettorale, quale idee e soprattutto quale lagnanze sta raccogliendo? Io ho visto molta attenzione intanto per i progetti concreti. Noi giriamo con il programma, che è un po' il nostro motivo conduttore, e ci confrontiamo. Ho notato interesse dei cittadini su questi punti. Ho notato pure che, nonostante le tematiche un po' più ampie, purtroppo ad Ariano, soprattutto nelle zone rurali, ci sono ancora dei problemi atavici da risolvere. Penso al provvigionamento di acqua innanzitutto, penso alle infrastrutture viarie, che spesso in molte zone sono veramente imbarazzanti, penso anche all'illuminazione pubblica. Le lagnanze che sentiamo più frequentemente in periferia sono queste, che si pongono ancora prima dei problemi più seri, più concreti, che potrebbero sembrare più seri e più concreti, quale l'economia, l'occupazione e tutto il resto. Dai là, appunto, per introdurre un altro argomento velocemente, l'emergenza idrica, Ariano è attanaiata su questo fronte, anche al suo competitor, se la carità lo abbiamo chiesto. Lei che posizione prenderebbe da Palazzo di Città? Bisogna interloquire innanzitutto con l'alto calore, che è il protagonista di questo settore e di questo disservizio. Dal punto di vista del Comune di Ariano, appunto, bisogna chiedere rispetto dei piani di efficientazione della rete idrica, che esistono da tempo, presso l'alto calore, ma restano attuati. Ovviamente il Comune può fare, per quel che riesce, la propria parte sulla manutenzione ordinaria, anche educando i cittadini ad evitare sprechi, può attivarsi anche per la creazione di nuove vasche di accumulo che possono essere importanti per dare più respiro ad alcune zone che sono particolarmente colpite da questa emergenza. L'attualità sta per iniziare l'anno scolastico in Campania, quindi anche ad Ariano Urpino, e molti istituti non hanno spazio, non hanno aule, soprattutto per adeguarsi alle norme Covid. Sempre se lei fosse sindaco, quale soluzione individuerebbe? Io, se posso ricollegarmi, ho ascoltato ieri l'appello del mio competitor, il professor La Carità, che, essendo del settore, ha puntualizzato l'attenzione su questo aspetto. Devo dirgli e devo dire ai cittadini che il patto civico, e segnatamente qualche lista del patto civico, si sta occupando di questo fin dal 30 giugno. Il 30 giugno c'è stata una prima comunicazione fatta al commissario prefettizio nel quale si sono prospettate una serie di soluzioni. Si sono elencati gli edifici che potrebbero essere utilizzati in alternativa a quelli già esistenti per l'avvio dell'anno scolastico, alcuni dei quali ho sentito che le ha indicati ieri anche il professore La Carità, ma ce ne sono anche degli altri. Si è chiesto un intervento immediato per poter ripartire, anche dal punto di vista del trasporto alunni. Si è indicato anche il capitolo di bilanio, la risorse finanziarie, cioè l'avanzo primario, di 150 mila Euro che avrebbe potuto essere utilizzato. Quindi, in quel momento, mentre i partiti tradizionali, come dicevamo prima, erano impegnati a fare nomenclature e ad escludere qualcuno dal dialogo, questo qualcuno era già impegnato in prima linea, parliamo del 30 giugno, per sollecitare una corretta apertura dell'attività scolastica. Purtroppo, quella lettera e molte altre che sono state protocollate in quella data e successivamente dal Comune di Ariano, non sono state prese in considerazione dal Commissario Prefettizio, che evidentemente anche lei aveva altre priorità più urgenti. Dunque, gli spazi che ha individuato, visto che lei l'ha tirato in causa alla carità, potrebbero essere idoni? Io ho sentito l'ospedale San Giacomo, Palazzo Bevere, Gamba Corta, ce ne sono tanti altri, a scuola, altri arti e mestieri, altri edifici di proprietà comunale, anche il palazzetto dello sport noi abbiamo indicato in quelle comunicazioni. Ma comunque l'importante, e sono d'accordo questo con il professore della carità, è parlarne. Forse parlarne però il 15 settembre, siamo un po' in zona Cesarini, come si dice. L'economia post-Covid, Ariano, è veramente messa quasi in ginocchio. Il patto civico comprende anche degli operatori del settore economico, quindi esponenti del tessuto produttivo, per far riprendere le attività. Sì, una delle nostre liste è formata da partite IVA, cioè da lavoratori autonomi, commercianti, imprenditori, ma anche professionisti. Per far partire le attività ci vuole una scossa soprattutto non solo sulla creazione di nuove attività, ma incentivi, aiuti come sburocratizzazione e come aiuti anche economici concreti alle partite IVA in difficoltà. Per esempio nel centro storico non stiamo pensando a favorire una fiscalità di vantaggio, come si dice, che possa sgravare i commercianti e gli imprenditori da un peso economico eccessivo. E' forse non sostenibile in questo periodo. Poi comunque l'aiuto al commercio e all'imprenditoria va data anche per altre vie, anche attraverso la semplificazione, perché sembra una cosa secondaria, ma talvolta anche gli adempimenti burocratici sono pesanti. Ovviamente poi ripartire l'economia significa far partire progetti concreti che portino appunto concretamente un po' un'iniezione anche di liquidità e di PIL nel nostro territorio. I suoi avversari guardano molto all'elettorato giovanile, c'è chi guarda più agli universitari e chi ovviamente ai ventenni. Per le politiche giovanili che cosa si può fare? Per le politiche giovanili si può fare molto, si possono favorire innanzitutto centri di aggregazione tra giovani, bisogna soprattutto ascoltare ciò che ci indicano i giovani, perché la priorità per qualsiasi amministrazione deve essere quella di evitare che i nostri giovani, come purtroppo avviene frequentemente in questo periodo, siano costretti per lavorare, per crearsi un futuro, ad uscire fuori di Ariano. Noi dobbiamo ascoltarli, ho avuto una piacevole sorpresa in questa campagna elettorale interloquendo con il forum dei giovani che mi ha trasmesso il suo programma e veramente ho trovato degli spunti molto interessanti. Bisogna ascoltare i giovani e questo noi lo stiamo facendo costantemente, fare proprie le istanze dei giovani, anche da parte nostra che siamo un po' più avanti con l'età e poi è chiaro che le politiche giovanili sono ricollegate strettissimamente alle politiche dell'economia e del lavoro. E' chiaro che le nostre soluzioni che abbiamo indicato in quel settore sono rivolte prevalentemente, se non esclusivamente, ai giovani. Quindi l'attenzione anche da quel punto di vista è forte. Secondo lei Ariano avrà il suo sindaco già al primo turno? Io credo di no, molto sinceramente. Sì, potrei dire anch'io che vinco al primo turno, ma vedo che il panorama complessivo francamente restituisce un quadro piuttosto articolato. Poi le sorprese sono sempre possibili. Il patto civico potrebbe vincere al primo turno, per esempio. E cosa intenderete fare in caso di ballottaggio? In caso di ballottaggio intenderemo innanzitutto vedere chi va al ballottaggio, perché dire cosa intenderete fare ovviamente presuppone la risposta a questa domanda preliminare. Poi comunque ci confronteremo sui programmi e sulle idee. Non abbiamo posizioni per costituire, non abbiamo preclusioni, non abbiamo convenzioni ad escludere. Abbiamo soltanto la volontà di agire per il bene della nostra città, con un termine che forse è un po' abusato, ma comunque riassume quello che è l'interesse primario che noi abbiamo. Intendiamo confrontarci sugli altri su questo presupposto. Ma vecchi rapporti nel centrodestra si potrebbero recuperare proprio in caso di ballottaggio? Questo dovremmo chiederlo ai protagonisti, a chi ha militato nel centrodestra. Io sono stato un po' fuori in questi ultimi tempi. So che ci sono state delle forti incomprensioni. Per superare le incomprensioni ovviamente bisognerebbe parlare con i protagonisti e credo che sia anche prematuro in questa fase. Grazie Marcello Luparella, grazie del suo tempo e ovviamente buon fine di campagna elettorale. Grazie ai nostri telespettatori e alla prossima. Grazie a tutti i nostri telespettatori e alla prossima.